Fiera di Roma, mostra di bellezza internazionale canina, eccoci qui con Carlo Buono, titolare dell'allevamento con affisso di Casa Buono, di Matera Basilata. Ecco ci troviamo qui con i vincitori di oggi, tre magnifici cuccioloni, loro hanno 11 mesi, prossimi spero al campionato, i risultati oggi il maschio giovane ha conseguito il primo eccellente in classe, ha fatto miglior maschio giovane, poi abbiamo fatto con le femminucce, anche loro hanno fatto un secondo e un terzo posto eccellente e poi abbiamo conseguito con primo nelle coppie e primo nel gruppo d'allevamento. Dopo tanti sacrifici, grazie a loro e grazie al lavoro anche del mio staff, abbiamo raggiunto una bellissima soddisfazione anche oggi. Ecco allora, ne fai molte tu di gare e concorsi di bellezza? Diciamo che ultimamente abbiamo rallentato un po' per via di alcuni lavori che sto facendo nel mio allevamento, però di solito tutte le domeniche siamo fuori per l'Expo. Ecco, e ci potete qualche anticipazione? Non dovrei dirlo, comunque qualche anticipazione la diamo, la prossima che facciamo è Lecce con due esposizioni, tra cui una nazionale e una internazionale e poi ci dovremmo essere giù a Messina con le due internazionali. E spero di avere dei risultati altrettanto bene, insomma. Ecco, ci abbiamo avuto qualche anticipazione, diciamo i nomi di questi tre becagnoloni? Ecco, vi presento Olesia di Casabuono, Ostrica di Casabuono e Ossian di Casabuono. Un gruppo di cuccioloni che sono i giovani che oggi ho portato per farli fare esperienza con il ring e spero presto di avere degli ottimi risultati a livello di campionato italiano e anche internazionale. Ecco, ricordiamo la loro razza, eh? Sono Cocker Spani e l'inglesi. Ecco, e ricordiamo che i cani sono tutti belli, sia quelli di razza che non di razza. Tutti, vorrei ricordare a tutti che non è prendere solo il cane di razza, anche il cane preso dal canile. L'importante è che amiamo gli animali. Noi prima di tutto, anche allevatori, dopo tutto questo sacrificio è perché amiamo gli animali, altrimenti no. E questa è la cosa più importante e hai anche un sito? Sì, il sito del mio allevamento è www.casabuono.it Ecco, ricordiamo di dove sei? Io sono di Matera, Basilicata. L'allevamento è situato nei pressi della Liga di San Giuliano, che consiglio a voi stessi di venire a visitare perché veramente è un posto meraviglioso. Perfetto, noi ti ringraziamo dell'invito, vuoi fare un saluto a qualcuno in particolare? Io ringrazio tutti voi anche per il lavoro che state facendo e saluto tutti gli amici della Basilicata e gli amici che mi sostengono in questa impresa. Ciao, un saluto a tutti quanti allora. Ciao, ciao Lario, ciao. Ciao da Fiera di Roma. Carlo Buono, allevamento di Casabuono. Cristian Paoloni, News 25 e i bellissimi cuccioloni. Ciao. Ciao.